E' un po' più vicino. Un mostro. Ma inserirsi. Di solito non vado alle feste. Ehi, che fai? Scusate. Era quasi impossibile. Potrei prendere anch'io qualche lezione. Benvenuti al nostro corso per spazzaneve. Io andrò alle Olimpiadi del 2010. Saresti così cortese da non schiacciarmi? Finché... Tutto corrisponde a un'esatta formula aerodinamica. Una svolta del destino. Rivoluzionò il suo mondo. Hai fatto un triplo. Quando firmerai per la Nike, ricordati che porto il 37. I Disney DVD. So che hai fatto un triplo. Tu sei brava quanto me. Non è vero, tu vuoi. Diciamo che hai talento. Io non ho l'atleta, tu non hai il coach. Siamo una coppia perfetta. Ci sta. Mantieni il sangue freddo. Oh, ha gli occhi anche dietro le corna. Tieni i piedi per terra. Ora riprovalo altre 5.000 volte. Una favola. Non hai speranze di piazzarti quest'anno? Non farti nervosire, sei più intelligente e più interessante di loro. Scopri il tuo punto di forza. Per vincere ci vuole sacrificio. Devi volerlo più di ogni altra cosa. Perché lo stai facendo? Mamma, perché mi fa sentire forte e bella almeno per una volta nella vita. La fortuna concorrente è Casey Carlyle. Fa un respiro profondo. E butta fuori l'aria. Walt Disney Pictures presenta... Come ho fatto a non capire. Tu mi capisci meglio di chiunque altro. John Cusack, Kim Cattrall e Michelle Trachtenberg. Con una pattinatrice così tutto è possibile. Anche le Olimpiadi del 2006. Ice Princess, un sogno sul ghiaccio. Sempre coi piedi nel ghiaccio, eh? In Disney DVD.